E' importante parlare di legalità perché la legge è il contesto dentro il quale tutti godono di una comune protezione, i forti e i deboli. Ciascuno a proprio modo è chiamato a far valere le leggi. Le leggi sono scritte e non devono rimanere lettera morta. Per questo Biennale Democrazia ha voluto realizzare una serie di iniziative che lavorassero proprio su questo punto, sull'impegno quotidiano che ciascuno di noi può assumere nei confronti del senso civico, del rispetto delle leggi. Da qui per esempio è nato un progetto molto importante al termine di un lungo lavoro con le scuole che è il calendario della legalità. Il Biennale Democrazia da molti anni, prima ancora di questa iniziativa sulla legalità, lavora su questo tema. E quello che è importante, che crediamo importante con il nostro presidente Gustavo Zagrebelsky, è rafforzare l'educazione e la cittadinanza. E di farlo comunque in una forma, diciamo, attiva. Si presenterà anche l'albero della legalità che resterà come testimonianza di questo sforzo che Torino, con Biennale Democrazia, fa. Un impegno che abbiamo ritenuto doveroso e importante. Il 23 maggio è la data del ventennale della strage di Capaci, una data della memoria importante non solo a Torino, non solo in Italia. Il 23 maggio si concludono le iniziative di Biennale con non soltanto un concerto di Franco Battiato, non soltanto con un happening, una serata condotta da Dario Vergassola, in cui avremo ospiti importanti, ma anche, molto importante, la presenza a Torino di sindaci impegnati nella lotta alla corruzione e alle mafie.